Da indosso intimo femminile Oggi ho un tango a zebrato Una tiktoker americana innamorata di me Ma come? Barbutto sempre piaciuto Chi guarderà questo video lascerà like e mi seguirà Barbutto campione Questi cereali dal colore sono tossici Infatti sono buonissimi Dovrò dare un voto alle tiktoker No vabbè E' appena uscito il video sul mio canale, link in bio